Buonasera, buonasera, sono Walter dell'Urom Italia, siamo qui al fish shop di San Marino a presentare la HU700 dell'Urom. Adesso prepariamo un estratto di sedano, mela e carota. Questa macchina si contraddistingue dalle altre per un'altissima qualità di succo reso in virtù del fatto che con i suoi 40 giri non distrugge e non rovina gli enzimi principiattivi presenti nel succo. Una particolarità inoltre è quella che una volta estratto il succo può essere conservato in frigorifero fino a due giorni proprio perché il succo non viene in nessun modo rovinato o riscaldato dal calore del motore. La macchina è una macchina che diceva a 40 giri al minuto, un motore da 150 watt e quindi non produce assolutamente calore. Una delle caratteristiche fondamentali di questa macchina è la presenza di questa leva che serve per scegliere se fare o meno il succo con una fibra. Bisogna cambiare il filtro, mettere il filtro a maglie larghe, chiudere la leva, porla su close. In questo caso la macchina non scarta la fibra, la fa macerare e quindi dai fori più grandi del filtro esce la fibra e quindi viene un succo molto più denso, simile a una purea. Poi si può decidere se mettere latte o yogurt e fare il famoso smoothie, siamo un po' sul lato.